Sebbene poco utilizzati, gli specchietti retrovisori sono un ausilio validissimo per la conduzione di una bici in strada. Come in macchina del resto, sarebbe impossibile guidare senza gli specchietti retrovisori. Ed è anche molto rischioso perché ogni volta che mi giro, perdo completamente la visuale della sede stradale. Queste dotazioni, così come anche il casco e le luci, sono fondamentali per la sicurezza dei ciclisti.